Bene, rieccoci di nuovo insieme, siamo pronti per il primo collegamento di oggi. Io sono felicissimo di riavere con noi il presidente di Fondazione Progetto Arca, Alberto Sinigaglia. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Grazie dell'invito. Grazie, grazie a te per la disponibilità. Alberto con Fondazione Progetto Arca in questi giorni è a Rimini per partecipare al meeting di cui abbiamo parlato con la collega Paola Russo durante la pagina delle notizie e al meeting di Rimini il progetto Arca porta in scena, se possiamo dire così, la mostra per chi esistono le stelle con un punto interrogativo. Una mostra che racconta 30 anni di impegno di Fondazione Progetto Arca a fianco delle persone fragili. Presidente, noi ci siamo sentiti non molto tempo fa e siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla quantità e dalla qualità delle azioni che quotidianamente mettete in campo per le persone fragili. La mostra la trovo un'idea molto bella per ripercorrere i numerosi passi di questo impegno. Come sta andando al meeting di Rimini? Ma ha avuto un successo, sta avendo un successo enorme. Abbiamo, siamo già oltre le 2500 visite in tre giorni. La mostra è una mostra esperenziale sulla fragilità dell'uomo, non solo dei nostri assistiti, ma proprio vogliamo fare medesimare tutte le persone che entrano sulla possibilità di rompersi, di cadere, di avere delle crisi. Infatti si entra nella mostra camminando su dei cocci rotti e poi si chiude la mostra con una scultura fatta proprio di cocci, di un artista. Tutto il percorso fa immedesimare le persone in tutte le situazioni che possono essere la perdita del lavoro, il frigor vuoto con le frasi tipiche dei bambini o le preoccupazioni dei genitori che quando chiudono le scuole non riescono a dare due pasti ai propri figli. E poi insomma tutte le soluzioni che può dare Progetto Arca e le altre organizzazioni umanitarie come l'housing per esempio, in cui ci stiamo concentrando molto negli ultimi anni per far sì che le persone possano rientrare in una casa e da lì proseguire. Noi crediamo che la casa sia un punto di partenza, non un punto di arrivo per le persone senza dimora perché senza la casa non si può iniziare un lavoro, le relazioni sono difficili, il ricongiungimento con la propria famiglia e poi tutta la parte alimentare dove vogliamo prevenire la cronicità delle persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Per cui il social market che abbiamo aperto negli ultimi due anni, ne abbiamo aperti otto in tutta Italia, sono i supermercati gratuiti dove le persone con una tessera punti possono andare a fare la spesa. È un po' l'evoluzione del pacco vivere che portavamo a casa, che era poco dignitoso, mentre il social market ti dà la possibilità a loro di scegliere ciò che la propria famiglia desidera, che i propri figli vogliono e a noi di entrare in relazione con l'educatore finanziario per poter capire la crisi dell'indigenza perché le persone che spendono più di quanto guadagnano ovviamente poi vanno in crisi e allora l'educatore finanziario può aiutare le persone a razionalizzare cosa c'è bisogno per loro. Ecco Presidente, dicevamo un lavoro straordinario che portate avanti ormai da 30 anni e che conosce mille sfaccettature, ce le stavi raccontando. Quante persone servono per portare avanti la bellezza, l'importanza del lavoro di Progetto Arca? Sicuramente servono i professionisti, ne abbiamo tanti, abbiamo 200 dipendenti in fondazione Progetto Arca, ma la cosa più importante sono i volontari, ci sono oltre 500 volontari che collaborano tutti i giorni con Progetto Arca perché il centro dell'incontro con l'altro è non mettere barriere, non mettere muri e il volontario su questo è fondamentale perché le persone si fidano e riescono ad aprirsi, dopodiché interviene il professionista. Però il primo approccio, le unità di strada, i food truck, le cucine mobili che vanno in giro in otto città d'Italia fa sì che noi possiamo contattare senza dimora con i nostri volontari e dopodiché dopo un primo approccio ovviamente lo si invita a fare il colloquio col professionista e da lì si inizia un percorso insieme che non vuol dire prendersi in carico la persona ma accompagnarla. Io dico spesso che noi siamo delle stampelle per la riabilitazione, noi non possiamo sostituirci e risolvere il problema delle persone perché se no non funziona, non funziona in generale, no? Neanche il signore, voi lo sapete, che prende in mano le persone e le guida. Lui è sempre presente e ci dà una guida, ci dà un aiuto quando noi lo contattiamo per cui in questa massima libertà cerchiamo di aiutare le persone che lo richiedono per cui quando uno chiede un percorso lo si fa insieme. Ecco, mentre chiacchieravamo la regia ci proponeva anche il sito ufficiale di Progetto Arca www.progettoarca.org ecco lo vedo alle mie spalle, senza dubbio uno strumento utile per approfondire i temi di cui abbiamo parlato, per conoscere le azioni di Progetto Arca e per supportarle. Ecco, volevo chiedere se anche un aspirante volontario può utilizzare il sito per candidarsi. Sì, c'è una parte proprio sul volontariato in cui si fa richiesta, lo contatteremo, c'è un corso di formazione a cui bisogna accedere perché ovviamente il ventaglio di azioni che noi facciamo col volontariato è molto grande, cioè dal social market ai pacchi viveri all'unità di strada, alla cucina mobile, le mense. Noi facciamo 5.000 pasti al giorno per le persone indigenti, per cui insomma ci sono tantissimi servizi, anche volontari, professionisti che possono essere medici, avvocati, infermieri, assistenti sociali, insomma ogni persona deve poi scegliere e capire il settore che più gli aggrada e dove può essere più utile. Ecco, intanto stiamo vedendo e siete presenti praticamente in tutta Italia. Io prima di salutarci, Presidente, ritornerei alla mostra fotografica allestita al meeting dei Rimini, ricordiamo un meeting dal 20 al 25 agosto, quindi quanti di voi hanno messo in programma un passaggio al meeting dei Rimini o sono lì? Ecco, li invitiamo a cercare la mostra di Progetto Arca, la mostra fotografica di Progetto Arca, magari il Presidente ci dirà anche precisamente dove è stata allestita. Io aggiungo anche un'altra domanda perché mi incuriosisce questo bellissimo titolo con un punto interrogativo. Come mai avete scelto di chiamarla? Per chi esistono le stelle? Sì, allora siamo al padiglione C1, non è fotografica la mostra, è una mostra esperienziale dove proprio c'è un cammino tra suggestioni. L'abbiamo chiamata perché esistono le stelle, perché abbiamo fatto un lavoro con Marco Martinelli, un registra con i nostri ospiti volontari e operatori. Abbiamo montato un video in cui si parte proprio dai... È stato bravissimo, il video è bellissimo perché ci sono i nostri volontari assistiti che cantano, partono proprio dai bisogni primari con Dante, la Selvo Scura e arrivano a questa poesia di Majakowski in cui si recita proprio perché esistono le stelle. Per cui si vede proprio tutto il passaggio dell'uomo da quando è proprio sulla strada con i bisogni primari all'ultimo che esultano, guardano il cielo e arrivano a dire noi siamo le stelle. Io amo dire che per me le stelle sono il sorriso di Dio, no? Perché è di un altro mondo che viene in questo mondo ed è sempre presente anche quando non lo vediamo e aspetta che noi alziamo lo sguardo e guardiamo le stelle. Per cui è molto poetica la mostra perché è leggera ma profonda, cioè ti fa fare proprio delle domande interiori. Davvero un'intuizione molto bella, quindi invitiamo tutti quelli che possono fare esperienza di questa mostra che come ci ricordava il presidente è qualcosa che ci coinvolge quindi io erroneamente quando no, quando si dice mostra si associa sempre un po' di default alla fotografia invece no, questa è qualcosa di più per cui invitiamo quanti fossero a Rimini o già all'interno dei padiglioni del meeting a visitare, a vivere questa mostra e a conoscere più da vicino Fondazione Progetto Arca per supportare questa splendida realtà che compie 30 anni. Grazie presidente per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie, grazie mille a voi. È sempre davvero un grandissimo piacere quindi speriamo di ritrovarci anche in futuro. Io adesso do la linea alla regia noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.